Il sindaco metropolitano Marco Bucci a Chiavari per i cinque anni di Piazza Levante sul depuratore dice non compete a noi se non lo si vuole il comune faccia un'ordinanza e si prenda la responsabilità. L'Università di Genova sta lavorando a due progetti del PNRR che cubano 250 milioni per l'intero territorio nazionale. I settori riguardano l'ecosistema delle innovazioni e le neuroscienze. L'annuncio a Chiavari. Chiusa l'edizione 2023 di Discover Italy già si pensa all'edizione del prossimo anno. Necessari nuovi spazi per ospitare la crescita dei partecipanti. Quest'anno oltre 300 realtà italiane e straniere presenti a Sestri Levante. La comunità ucraina del Tiguglio ha celebrato il rito della benedizione delle palme. In questa quaresima di preghiera chiesta la pace per il proprio paese per i cuori di tutti continua la raccolta di generi di prima necessità a sostegno dei profughi. La pace non è solo conseguenza della guerra. L'analisi dell'esperto di diritto internazionale Andrea Michieli dell'Istituto Tognolo le crisi economiche e sociali devono essere gestite con giusto sguardo per non generare conflitti. Viviamo nell'epoca in cui l'uomo trasforma il mondo con la tecnologia ma le sue applicazioni restano sottomesse ai criteri di scelta umani. A Genova secondo incontro per Deconomy o Francesco con padre Paolo Benanti e Marco De Vivo dell'IIT. Uova di Pasqua per la ricerca contro il neuroblastoma branchetti in piazza Vittorio Veneto a Lavagna domenica mattina. Presenti i volontari della protezione civile. Con la primavera inizia il periodo più intenso per gli atleti del tennis chiavari tra partite, tornei e campionati a squadre. Oltre all'agonistica numerose le proposte per l'attività di base. Buonasera dalla redazione di Telepace. Apriamo con l'aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco che è stato dimesso dal Policlinico Gemelli. Andiamo sul sito di Vatican News. Il pontefice è stato dimesso questa mattina dopo aver ricevuto la conferma sul miglioramento delle sue condizioni di salute dovuta anche alla terapia antibiotica da parte dell'equip di dottori e operatori sanitari che lo ha seguito in questi giorni. Allo staff medico con il quale due sere fa ha condiviso la cena a base di pizza, il Papa ha rivolto l'ultimo saluto prima di lasciare la struttura. Erano presenti anche, come riferisce la sala stampa a Vaticana, il rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli con i suoi più stretti collaboratori, il direttore generale del Policlinico Marco Elefanti, l'assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica Monsignor Claudio Giulio Dori. Il Papa è partito quindi dall'ospedale che per la seconda volta lo ha visto degente a bordo di una 500 Bianca dove nel frattempo si era radunato un gruppo di persone giornalisti che lo hanno fermato per un saluto e una benedizione. Da dietro la vettura è arrivata Serena con il marito Matteo e si è avvicinata al Papa per raccontargli la tragedia che hanno vissuto poche ore prima con la morte della figlia a causa di una malattia genetica. Francesco ha ascoltato le parole della donna che tra le lacrime continuava a ripetere grazie, poi l'ha abbracciata stringendola forte al petto e le ha dato un bacio. Lo stesso ha fatto con il marito che con la voce rotta dal pianto ha detto lei l'ha conosciuta perché nel 2019 è venuto a casa Albertone e l'ha tenuta in braccio. Preghiamo per Angelica, ha sussurrato il Papa tenendo le mani della coppia, ha dato quindi loro la sua benedizione e la sua consolazione regalando dei rosari. Ora veniamo in ambito locale e apriamo la pagina dedicata alla politica amministrativa, la cronaca del nostro territorio. Se non si vuole il depuratore incolmata Chiavari è compito del Comune fare un'ordinanza specifica. Sono parole di Marco Bucci, il sindaco di Genova e di città metropolitana pronunciate al convegno organizzato sul tema Chiavari e il Tigullio, ultima chiamata promosso per i cinque anni di Piazza Levante. Bucci si è poi soffermato anche su altri temi come il tunnel della Fontana Buona, invitando ad avere una visione per il rilancio del territorio. Risorse umane, infrastrutture, investimenti. Si concentra su questi aspetti il sindaco metropolitano Marco Bucci a Chiavari nel dare la sua personale visione di futuro che un territorio merita, in questo caso il Tigullio. Primo poter contare su un maggior numero di giovani. Bisogna creare le condizioni per cui intanto ci siano le nascite, dopodiché attraverso la scuola e l'università e le famiglie che vengano a lavorare. Se io creo business, cioè creo un'azienda qui a Chiavari, porto 30, 40, 50, 200 persone che vengono con la famiglia e questo consente di portare giovani. Per rilanciare un territorio, prosegue, servono le infrastrutture e qui l'accenno al tunnel Fontana Buona, un progetto, dice Bucci, a cui credo. Il tunnel Fontana Buona è fondamentale. Se lo vogliamo il tunnel dobbiamo tutti quanti essere a tirarci sulle maniche e a fare il tunnel. È inammissibile che ci siano persone che non lo vogliono. Il sindaco metropolitano tocca dunque l'aspetto cruciale, serve a tirare nel Tigullio investitori. Che la gente di Chiavari vada in giro per il mondo a dire che a Chiavari si investe bene e le procedure sono veloci, perché oggi l'ostacolo più grosso è proprio la burocrazia. Città metropolitane con voi, sottolinea, rispondendo alle critiche di una struttura dominante o matrigna. E ci sono fondi dal PNRR, aggiunge, che potrebbero essere dirottati nel Tigullio e favorire investimenti e futuro. Tiriamo fuori dieci progetti, magari non riusciremo a farli tutti, ne faremo cinque, ma cinque è meglio di zero. Infine, la questione depuratore incolmata a Chiavari, sollecitata da più parti, tra gli ospiti invitati al convegno e tra il pubblico. È un caso di totale assenza di visione. Siete proprio sicuri che volete fare l'impianto di depurazione su una terrazza sul mare? Bucci spiega di non avere voce in capitolo sul depuratore e passa la palla. La città metropolitana è un esecutore di legge, punto. Se non si vuole farlo, il Comune fa un'ordinanza e si prende la responsabilità. È compito del Comune farlo. L'ho detto da tutte le parti. Ma sono stati tanti gli argomenti che sono stati trattati nel corso del convegno ospitato nel Teatro Caritas di Chiavari. Particolarmente significativo l'intervento del rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino. Nella sua analisi anche alcune proposte per il futuro, attingendo al piano nazionale di ripresa e resilienza. Il passaggio richiesto è quello di non considerarsi un'isola ma parte di un sistema. E' uno dei nodi cruciali emersi nel dibattito ospitato a Chiavari per vincere le sfide del presente e costruire il futuro. Parte integrante di questo meccanismo è l'Università di Genova con i suoi 35.000 iscritti, unico ateneo del territorio. Oggi bisogna leggere la società Ligure in un altro modo. Non c'è Genova che è l'hub della Liguria, i territori che sono dimenticati. C'è Genova che può essere l'elemento attrattivo e in stretta connessione con i territori può creare delle dinamiche Florida-like, California-like dal punto di vista dell'innovazione. Tra le missioni affidate al mondo universitario, formazione, ricerca e divulgazione, l'attrattiva del territorio anche del Tigulio a livello nazionale ed internazionale è alta, dall'interessamento dell'Università di Berkeley in California a quello delle Big Four milanesi. Le sfide, secondo Delfino, si giocano nei prossimi tre anni e mezzo e passano attraverso due progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Uno molto importante sull'ecosistema Ligure della ricerca in ambito di intelligenza artificiale e di robotica. Questo ecosistema riguarda tutta la regione, ovviamente vede come centro pilota Genova, ma farà uscire dei bandi che potranno coinvolgere anche le piccole e medie imprese, comprese quelle innovative che possono nascere dai nostri giovani. La proposta, integrata da politiche sociali attente, può portare ad una dinamica attrattiva per i giovani. Il secondo progetto riguarda le neuroscienze. Ricordo, le due iniziative insieme cubano su tutto il territorio nazionale 250 milioni nei prossimi tre anni e mezzo. Beh, se si sviluppano progetti, noi possiamo ovviamente essere della partita. Una turista tedesca di 66 anni è caduta oggi attorno alle 13 lungo il sentiero che da località Pietre Strette scende verso San Fruttuoso di Camogli. La donna si trovava in gita insieme al marito e ha rimediato una profonda ferita alla testa, anche se fortunatamente non ha mai perso conoscenza. Sono stati attivati i soccorsi sul posto Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, con i vigili del fuoco e i volontari della Croce Verde di Ruta. La donna è stata medicata, poi è stata recuperata con l'elicottero, l'elicottero, che ha issato a bordo la turista e l'ha trasportata all'ospedale San Martino di Genova. A Sestri Levante si è conclusa l'edizione 2023 di Discovery Italy, la fiera del turismo che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 300 realtà provenienti dall'Italia ma anche dal resto del mondo. Buona la ricaduta in termini di presenze sul nostro territorio e già si pensa all'edizione del prossimo anno. Oltre mille presenze sul territorio, più di 300 realtà italiane e straniere tra tour operatori e operatori turistici, 15 regioni italiane rappresentate. Sono i numeri che hanno caratterizzato l'edizione 2023 di Discovery Italy, la fiera del turismo che Sestri Levante ha ospitato l'ex convento dell'Annunziata. Una manifestazione in costante crescita, stoppata solo dalla pandemia e che, conclusi i due giorni di colloqui, guarda già all'edizione del prossimo anno. Ogni anno è sempre più importante, quest'anno è sold out, proveremo a trovare delle soluzioni per la prossima edizione perché ci stiamo allargando e qui non abbiamo spazio e quindi resteremo qui, però dovremo trovare delle idee innovative a cui sto già pensando. La Discovery Italy è anche importante per un discorso di destagionalizzazione perché in questi giorni, comunque a fine marzo, dove la stagione del territorio non è ancora iniziata in un certo modo, abbiamo portato circa mille pernottamenti. Tantissime le realtà presenti che hanno avuto modo di presentare la propria offerta ai buyer nostrani e stranieri, tra questi anche le due principali isole italiane, Sicilia e Sardegna. Abbiamo incontrato operatori sia tedeschi, paesi bassi, francesi, è un buon lavoro stiamo facendo. C'è interesse? Assolutamente sì, assolutamente. La Sicilia è molto richiesta. Che cosa portate? Portiamo tutto quello che è il territorio proprio vero della Sicilia, quindi sono strutture che salberghiere, sono tutti balli, relai e agriturismi. La Sardegna cosa porta in offerta? Mare, sole, ma anche cultura. Tutto quello che si può fare nell'entroterra. Chiaro che il nostro attrattore principale è il balneare, ma una volta che i clienti arrivano nelle nostre strutture, che sono quasi tutte sul mare, li invogliamo ad andare a conoscere il resto dell'isola. Presente a Discover Italy per la prima volta anche la nuova compagnia di bandiera aerea It Airways che ha fatto il punto anche sui piani di sviluppo per l'aeroporto Cristoforo Colombo. Dall'aeroporto di Genova è possibile essere connessi via Roma su tutto il nostro network nazionale e internazionale con 68 destinazioni, di cui 22 domestiche, 36 mediterraneo e internazionale e 10 intercontinentale. Domani è la Domenica delle Palme, il giorno che apre la Settimana Santa. Il Vescovo Giampio De Vasini celebrerà la Santa Messa con inizio alle 9.45 nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Potrete seguire la celebrazione in diretta su Telepace 1 al Canale 12. Questo pomeriggio per la comunità ucraina di Chiavari si è rinnovato il rito della benedizione delle palme nella chiesetta delle Clarisse di Via Entelle. Per il secondo anno questa Settimana Santa, questa Pasqua alle porte, sarà vissuta per la comunità ucraina con il pensiero rivolto ovviamente alla propria terra in guerra, con le preoccupazioni che questo comporta e con la forte richiesta pressante della pace. Una Settimana Santa che inizia con la celebrazione delle palme, con la benedizione e tanti gesti nella liturgia che si è celebrata. Sì, si sono uniti un po' delle tradizioni. Prima di tutto che è una tradizione locale quando noi la prima domenica, il primo sabato del mese abbiamo dedicato per la preghiera per la salute e la guarigione. Così abbiamo pregato il Signore per la nostra guarigione e abbiamo benedetto l'olio con il quale vengono unte le persone che si avvicinano. Oggi, come la domenica delle palme, la tradizione proprio popolare ci vuole che le persone prendano la palma, poi toccano con la palma il fratello e la sorella in Cristo annunciando che tra una settimana c'è la Pasqua, c'è il giorno solenne e allora danno questa benedizione. Oggi abbiamo avuto questo mix delle tradizioni. È stata una novità, come dice Papa Francesco, bisogna essere un po' creativi. Io non aspettavo una reazione così forte anche dalla parte dei fedeli che hanno risposto in modo molto positivo anche facendo altri gesti della bendizione e soprattutto per sostenere uno l'altro. Via, 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 via le malattie, via il male, via la guerra, tutto qua via, solo la pace e solo l'amore. Ci si avvicina la Pasqua con tanti momenti anche in settimana, il digiuno, la preghiera, il silenzio. Questa settimana ci sta preparando per la Pasqua. Noi abbiamo chiamato la settimana anche del silenzio perché dopo la preparazione sinodale bisogna di nuovo lasciare lo spazio al silenzio. Così soprattutto venerdì santo abbiamo dedicato alla preghiera personale e a un silenzio profondo. In più c'è questa preghiera di 24 ore e allora invitiamo voi tutti a partecipare in questa iniziativa di prendere 15 oppure mezz'ora di tempo per pregare per la pace in Ucraina. E venerdì sera anche la comunità ucraina del Tiguglio parteciperà alla Via Crucis, cittadina di Chiavari, che sarà guidata dal Vescovo Giampio De Vadini. Intanto continua la raccolta di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e vestiario, per sostenere quasi 200 persone originarie dell'Ucraina che sono profughi nel nostro territorio. Il punto di riferimento è la Chiesetta delle Clarisse che sarà aperta due giorni la settimana, il martedì e il sabato dalle 14 alle 17. Pace, una scelta possibile. La domanda è stata il punto di partenza per la riflessione proposta ieri sera a Lavagna da Andrea Michieli, direttore del Centro Toniolo ed esperto di diritto internazionale, un'iniziativa che è stata organizzata da Azione Cattolica e Caritas Italiana. Prima di rispondere alla domanda la pace è possibile, occorre aver chiaro il significato della parola pace, a spiegarlo a Lavagna il direttore del Centro Tognolo di Azione Cattolica Andrea Michieli. La pace non è solo conseguenza della guerra. Parlare di pace significa parlare delle condizioni che rendono la convivenza tra i popoli, l'amicizia umana, una vera fraternità universale. Quindi per parlare di pace non bisognerebbe parlare di guerra, ma di fondamenti di una vera fratellanza. Disuguaglianze economiche e sociali impediscono una convivenza pacifica, fattori che vengono alimentati dall'industria delle armi. Parlare di queste tematiche ci porta a parlare anche dell'esigenza di una diversa attitudine rispetto al tema delle armi. Non possiamo negare che il possedere le armi, particolarmente quelle atomiche, la cui minaccia di utilizzo viene sempre più sbandierata dalle nazioni, l'utilizzo ma anche il stesso possesso, come ha detto Papa Francesco, è un peccato contro l'umanità. E questo come cristiani penso che sia importante ribadirlo. La crisi sanitaria conseguente alla diffusione del Covid ha accentuato crisi già esistenti. La guerra in Ucraina ha fatto da amplificatore. Crisi alimentari, energetiche, ambientali, migratorie. Tutte possibili cause di conflitto se non gestite con la giusta attenzione. Sono tutti fattori che possono essere non gestiti e portare a conflitti, conflitti all'interno degli stati e tra gli stati, oppure essere gestiti o meglio accompagnati sia dalle organizzazioni statali che dalle organizzazioni internazionali ma anche dalla società civile e dunque possono costituire un modo nuovo e rinnovato per una convivenza pacifica tra i popoli. Festa della pace domani a Sestri Levante. L'associazione Amici del Parco invita tutti in via Tino Paggi per un momento di allegria e di condivisione. Il programma prevede il lancio dei palloncini con messaggi di pace, giochi di squadra, musica, merenda e anche una lotteria di Pasqua. L'inizio alle 15. Accordo triennale fra l'informa giovani del comune di Rapallo e il centro di aiuto alla vita rapallese. Le mamme seguite dal CAV potranno rivolgersi agli sportelli di piazza Molfino per avere informazioni sui cataloghi della formazione professionale, per essere aiutate a compilare il proprio curriculum ed essere sostenute nella ricerca attiva di lavoro. Padre Paolo Benanti, teologo e docente alla Pontificia Università Gregoriana, ha presentato a Genova il libro Tecnologia per l'uomo, edito da San Paolo, nel secondo incontro organizzato dalla Diocesi di Genova, da UCI dell'Iguria e dalla Libreria San Paolo sui temi di Economy of Francesco. Il focus è stato sulla tecnologia e sulla sua presenza nel mondo contemporaneo. Con Padre Benanti nel corso dell'incontro è intervenuto anche Marco De Vivo dell'Istituto italiano di tecnologia. Cosa si intende per tecnologia? Non è una domanda scontata. Il tema, la tecnologia per l'uomo, è stato al centro del secondo incontro genovese inserito nel ciclo dedicato ai temi di Economy of Francesco. Se è vero che la tecnologia oggi pervade la vita di tutti, è anche vero che le domande che essa apre sono molteplici e complesse, anche soprattutto alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Possiamo modificare questo pianeta in una maniera mai fatta prima. Anzi, i geologi iniziano a dire che dovremmo smettercela di chiamare quest'era geologica ancora con gli stessi temi, con gli stessi termini. Non siamo più nel Pleistocene, perché non sono più maremoti, terremoti, tsunami, meteoriti, vulcani a cambiare la forma del pianeta, ma è la nostra attività. Dovremmo parlare dell'antropocene. Si sta discutendo a livello scientifico se siamo entrati in una nuova era geologica. Per molti psicologi evoluzionisti, l'uomo ha un modo tecnologico di sopravvivere rispetto agli animali, perché grazie alle attività cognitive di cui dispone, è in grado di supplire a ciò che gli manca in natura, costruendo mezzi in suo supporto. La tecnologia è innanzitutto un segno della grandezza umana. Cioè l'uomo, per essere uomo, ha bisogno di qualcosa che lo sostiene in questa sua ulteriorità rispetto allo strato biologico, al sottostrato biologico. Quali scenari dunque? Le applicazioni al servizio del genere umano sono a pannaggio della ricerca svolta ogni giorno dall'Istituto Italiano di Tecnologia, come ha spiegato Marco De Vivo, direttore associato di Scienze Computazionali e responsabile del Laboratorio Molecular Modeling and Drug Discovery dell'IIT. Questa conoscenza a volte ci permette di sviluppare nuova tecnica, perché poi alla fine vogliamo capirne sempre di più, perché controllando sempre di più, conoscendo sempre di più, possiamo fare cose utili come ad esempio, nel mio caso, nuovi farmaci. Dobbiamo essere capaci di trasformare la conoscenza in un prodotto, in qualcosa che davvero può essere, può avere un impatto. È sempre un modo per avere più informazione e quindi prendere decisioni, decidere strategie in maniera più informata. Ma alla fine è l'utente, cioè è lo scienziato, è la persona che applica queste tecniche, che dovrà inevitabilmente avere le informazioni per poi decidere cosa fare. Se volete seguire la registrazione integrale dell'incontro con Padre Benanti e Marco De Vivo, l'appuntamento è lunedì sera alle 21.15 su Telepace 2 al Canale 85. Torna sabato 15 aprile a Fior di Pelle, l'iniziativa giunta alla terza edizione dedicata alla prevenzione del melanoma attraverso screening gratuiti in diversi luoghi della città. L'evento è organizzato da Fondazione Alberto Castelli in collaborazione con il Centro Oncologico Ligure e con tutti gli ospedali dell'area genovese. Per tutta la mattinata alcuni tra i principali ambulatori ospedali cittadini saranno aperti per screening gratuiti, per prevenire il melanoma ma anche per sensibilizzare la popolazione alla lotta contro questa forma di tumore che ogni anno colpisce circa 15.000 persone in Italia. Da lunedì si potranno prenotare le visite. Occorre telefonare al 345 229 44 94 per le visite nelle sedi del Centro Oncologico Ligure oppure allo 010 56 32 090 per le visite all'ospedale Galliera. I volontari dell'Associazione di Protezione Civile saranno domenica 2 aprile a Lavagna per distribuire uova di cioccolato e raccogliere fondi a sostegno dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. I banchetti saranno in piazza Vittorio Veneto dalle 9 alle 12.30. Raccogliere fondi per la ricerca su come curare i tumori al cervello in età pediatrica. È lo scopo dell'iniziativa Cerca un uovo amico promossa dall'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma che all'ospedale Gaslini di Genova porta avanti una ricerca su come curare questa patologia senza usare la chemioterapia che ha un alto tasso di tossicità in favore di metodi di immunoterapia. Domenica i volontari della Protezione Civile saranno in piazza Vittorio Veneto a Lavagna con un banchetto di uova pasquali. Ci sono tre scelte, cioccolato fondente, al latte e nocciolato. Quest'anno è il primo anno, diciamo che sarà l'inizio di una nuova, di una grande serie di iniziative che il Procivar ci porterà avanti prossimamente. Ecco, come mai per la Protezione Civile in questa iniziativa? Allora, la Protezione Civile è sempre in prima linea per tutto ciò che sono le iniziative benefiche, di conseguenza comunque ha sempre necessità di crescere e giusto appunto abbiamo sempre la necessità di trovare nuovi soci, nuovi operatori perché si spera sempre di non averne mai bisogno ma potrebbe esserci la necessità e quindi trovare persone che comunque si approcciano verso questa famiglia perché poi siamo una grande famiglia. In questo momento è una sezione di lavagna, quante persone siete all'incirca? Ci sono i soci, soci e basta, soci che ci aiutano in tante cose e siamo veramente tanti perché siamo oltre i 150. Gli operatori invece diciamo abilitati per tutto ciò che è la Protezione Civile siamo in dieci. Abbiamo bisogno di tutti, dai ragazzi giovani che hanno voglia di fare alla persona che è pensionata perché no, c'è sempre bisogno di tutti. Chi volesse contattare la ProCi Varci in lavagna può chiamare il numero 338 28 28 141 e chiedere informazioni. Prosegue il lavoro dell'Associazione Mangia Trekking nei territori della Val di Vara. In questi giorni è stato recuperato un segnale di via in legno di botte ubicato a Rocchetta Vara che indica i sentieri per salire sulle montagne dell'Alta Via dei Monti Liguri. Il segnale proveniva da una cantina di Suvero ma era stato distrutto da alcuni vandali che lo avevano fatto a pezzi. Alfredo Rossi, socio della realtà che promuove la disciplina dell'alpinismo lento, con pazienza ha raccolto ogni pezzo e con un prezioso lavoro artigianale lo ha ricomposto e sistemato nella sua posizione di origine. Festa questo pomeriggio a Casarza Ligure per i cento anni di Teresa Cafferata. nata il primo aprile del 1923, ha sempre vissuto in Val Petronio, in località camezzana. Nella sua vita si è occupata della famiglia facendo la casalinga, a festeggiarla la figlia e i suoi due nipoti. A portare i saluti dell'amministrazione di Casarza Ligure, il sindaco Giovanni Stagnaro. Siamo allo sport, iniziamo con il calcio. Con una rete all'87esimo di Joshua Tencorang, la Virtus Entella ha vinto 1-0 in casa contro il Pontedera e così sale al primo posto in classifica a pari merito con la Reggiana, che ha pareggiato 1-1 in casa contro la Re Canatese. Una partita bloccata risolta solo a pochi minuti dal termine dal centrocampista Bianco Celeste. A completare la giornata perfetta dell'Entella, il pareggio del Cesena, terza forza del campionato, 1-0 contro la Lucchese. Adesso mancano tre partite alla fine del girone B di Lega Pro. Ora passiamo invece alla palla nuoto per il campionato di A1. Tutto facile per la Prorecco in casa del Bogliasco, ultimo in classifica. Alla Vassallo i campioni d'Italia si impongono 2-17. Mister Sucno deve rinunciare agli occhi grata, colpito dalla scomparsa del Papa Paolo in mattinata, e concede minuti ai giovani Marini, ex della partita, e per Rone, in acqua nel quarto tempo al posto di Del Lungo. Mercoledì Ivovic e compagni ritorneranno invece in Vasca ad Atene per l'undicesima giornata di Champions League. L'avversario sarà il Voglio Gmeni. Ora siamo al tennis. Con la primavera inizia infatti il periodo più intenso per le giovani e i giovani del tennis chiavari, tra partite, tornei e campionati a squadre. Oltre all'attività agonistica, al circolo chiavarese c'è anche un folto numero di persone che pratica l'attività di base. Sono una settantina i ragazzi e le ragazze iscritti al tennis chiavari, una ventina nel settore agonistico e restanti ai corsi di base. Un buon numero per uno sport in crescita e che, come altri sport individuali all'aperto, in parte è stato anche aiutato dal periodo di emergenza sanitaria. Ci ha permesso comunque sia di continuare l'attività sportiva e comunque ha permesso a tanti, mi viene in mente, tanti sostentori delle palestre che in quel periodo non potevano comunque diciamo andare ad allenarsi, a intraprendere l'inizio di un nuovo sport all'aria aperta e molti sono rimasti, quindi comunque quello lì è stato un fattore sorprendente ma importante. Con la primavera, per il tennis giovanile, inizia il momento più intenso per l'attività agonistica a partire dai tornei a squadre. Abbiamo ai nastri di partenza sei squadre divise tra under 10, piccolini e under 16, tra schede femminile e sette squadre di adulti, tra cui la serie C, che è la più prestigiosa, la più importante, che è l'unica a carattere nazionale, mentre l'altro sono competizioni regionali. Oltre al mantenimento e allo sviluppo del settore giovanile, uno degli obiettivi del prossimo futuro è quello di organizzare tornei giovanili individuali, divolti ai ragazzi e alle ragazze in tutta la regione. Ed è anche una, sarebbe un'ottima vetrina sia per noi sia per i ragazzi che giocano nel nostro circolo, poter avere un torneo individuale in casa, diciamo nel proprio circolo, dove vengono da tutta la Liguria altri ragazzini a partecipare. Poi il fior all'occhiello, il nostro torneo open di metà luglio, che è un torneo di altissimo livello con un bel monte premi, dove partecipano sempre una decina dei primi cento giocatori d'Italia e quindi quello è sicuramente un'ottima vetrina, un ottimo scenario anche per tutti gli appassiati tennis. Ora vediamo che cosa c'è in programma per domani con la nostra agenda. Gli appuntamenti in agenda per domenica 2 aprile. Prima gita in bicicletta per le famiglie organizzate all'interno della rassegna, piccoli ciclisti crescono, della FIAB Tiguglio Vivi in Bici, ritrovo alle 9.30 al Parco Tiguglio di Lavagna. E' aperto alle visite il Museo Dio Cesano di Arte Sacre in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, l'orario è dalle 10 alle 12. Seconda giornata della Reapallus Race sul lungomare di Rapallo dalle 10 alle 17, gare e attività per bambini e bambine. A Castello d'Albertis di Genova, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, viene inaugurata la mostra fotografica Luci, Ombre e Vite, aperta dalle 10 alle 19. Apertura straordinaria del Museo Vittorio Dossi, del Museo Camillo Sbarbaro e del Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure. L'iniziativa si svolge nell'ambito delle giornate nazionali delle case dei personaggi illustri italiani, gli orari dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17. E' aperta le visite anche la mostra di Adriano Leverone, 50 anni di lavoro per l'arte organizzato dalla Società Economica di Chiavari. Si può vedere dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 nella Galleria Gianfrancesco Grasso in Piazza San Giovanni. Ci sono i saggi di musica dell'associazione Franco Pucciarelli alle 10.30 e alle 16.30 nella Sala Albino di Piazza Ravenna a Lavagna. A San Martino di Liciorno, nel comune di Borzonasca, si recuperano gli eventi organizzati per le giornate FAI di Primavera. Alle 11 visita con laboratorio olistico nel Bosco, alle 15 teatro e opera lirica nel Bosco. Entrambi a cura dell'associazione Quarta Parete Art Lab, necessaria la prenotazione sul sito del FAI. Al termine del percorso di lezioni di Lutella Battaglia, direttrice scientifica dell'Istituto Italiano di Bioetica, con alcuni studenti e studentesse dell'università, alla Casa del Pensiero di Santa Margherita Ligure c'è un incontro aperto al pubblico, inizio alle ore 16. A per i giochi, alle opere parrocchiali di San Pier di Canni a Chiavari, dalle 17 giochi da tavolo, di società, calcetto, ping pong e a per i cena. Il ricavato sarà usato come autofinanziamento per la GMG 2023 a Lisbona. Dell'arte contagiosa, viaggio artistico-teatrale con i canti della Commedia di Dante Alighieri, alle 18 alla chiesa di San Michele di Romaggio a San Colombano Certenoli. Vediamo gli appuntamenti di lunedì 3 aprile. Prosegue il corso di formazione sulle antiche chiese savonesi, promosso dalla diocesi di Savonanoli, rivolta ad ucenti e studenti delle scuole superiori. Dalle 14.45 alle 17.45, nella chiesa Sant'Andrea Apostolo, ci sarà la relazione di Ugo Folco, direttore dell'ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici. Per i corsi di cultura di chiave, il professor Balsamo tiene una lezione di psicologia generale, intitolata Il pensiero e gli inganni della mente, alle 16.15, nella sala Livellara di Via del Pino. Nella chiesa di Sant'Andrea Savona, al quartetto di Corde Vibranti, propone le ultime sette parole di Cristo sulla croce. Ci sarà anche una meditazione del Vescovo di Savonanoli, Calogero Marino, inizio ore 20. Al Teatro Carlo Felice di Genova c'è il ventesimo concerto della stagione 2022-23 della Giovana Orchesta Genovese. Alle 20.30 si esibiscono le percussioni di Strasbio. La prossima edizione del nostro notiziario va in onda lunedì mattina alle 7.30 con la Rassegna Stampa, condotta da Marco Revello. Vi ricordo, domani alle 9.45 è la diretta della Celebrazione delle Palme, presieduta dal Vescovo Giampio De Vasini in Cattedrale a Chiavari, diretta che inizierà alle 9.45 su Telepace 1 al Canale 12. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.